un saluto agli amici della casa chiave di milano oggi chiavi contro il romando opel moca quelle cliente tutta rotta fatta la nostra nuova vediamo se funziona effetto chiuso alla grande perfetto chiave contro il romando nuova fatte pochi minuti opel moca 2014 ora milano casa da chiave number one grazie